Sono Valentina Radise, sono il plant manager di Compastic. Abbiamo conosciuto la fondazione tramite l'azienda Sava con cui collaboriamo da circa 15 anni e siamo stati invogliati ad avvicinarci soprattutto alla fondazione perché con il contatto che abbiamo avuto con la famiglia finita abbiamo avuto modo di conoscere tutte le iniziative di prima persona e quindi siamo stati coinvolti maggiormente in questo progetto portato avanti, tutti i progetti portati avanti dalla fondazione. Consiglierei ad altri di partecipare perché donare è più bello che ricevere soprattutto in una situazione come la nostra, soprattutto per tutte le questioni che sta affrontando il Medio Oriente piuttosto che l'Uraena con la Russia e quindi è importante dare un sostegno alle persone che hanno possibilità inferiori rispetto alle nostre. La cosa più bella della fondazione dal mio punto di vista è la rendicontazione della fondazione perché noi da donatori riusciamo a capire come sono stati investiti i fondi della fondazione, i risultati raggiunti piuttosto che tutte le iniziative a che risultati hanno portato. Quindi noi siamo pienamente convinti del sostegno che diamo alla fondazione proprio per questo motivo.